Nella squadra dei ministri del governo Meloni c'è Eugenia Maria Roccella, attuale ministra delle pari opportunità famiglia e natalità. 68 anni, nata a Bologna, trascorse l'infanzia a Riesi, figlia di uno dei fondatori del partito radicale, Franco Roccella, e della pittrice femminista Vandarelli, che raggiunse a Roma una volta in età scolare. Leader del movimento di liberazione della donna, dove entrò a soli 18 anni da portavoce di molte battaglie femministe per l'aborto, contro la violenza sulle donne, per la modifica del diritto di famiglia, per le pari opportunità, che nel 1975 scrisse l'aborto, facciamolo da noi. Nel 79 si candidò alla Camera dei Deputati, non fu eletta, poi abbandonò i radicali e la politica, per poi riprendere il percorso, passando anni dopo, all'area cattolica del PDL, abbracciando posizioni diametralmente opposte a quelle iniziali. Oggi giornalista e ricercatrice scientifica all'Università La Sapienza, già editorialista del quotidiano Avvenire, ha collaborato per Il Foglio, il giornale, occupandosi di problematiche relative alla bioetica. Deputata PDL, sottosegretaria al welfare nel 2008 e alla salute nel 2009, durante il governo Berlusconi 4. Così mentre il padre, Franco Roccella, fu tra i promotori della legge 194 sull'aborto, l'attuale ministra è di idee diametralmente opposte, dichiarandosi anche contro la pilola RU486 e le unioni civili, la procreazione assistita e contro il piano LGBT+, del governo Draghi, in una delle ultime riunioni, approvato per tutelare lesbiche, gay, bisessuali e transgender. Eletta nelle ultime elezioni nelle liste di Fratelli d'Italia, oggi è ministra del governo Meloni.